L'acido lactobionico è una molecola appartenente alla classe degli acidi bionici. È costituito da una molecola di acido gluconico, che è una sostanza fortemente idratante, ed una molecola di galattosio, che è uno zucchero semplice. L'acido lactobionico viene utilizzato in diversi settori, dall'alimentare al farmaceutico al cosmetico. In campo alimentare l'acido lactobionico viene utilizzato per regolare l'acidità e la maturazione dei formaggi, per regolare la consistenza dei budini e delle carni gelificate e anche per la produzione di bevande probiotiche, poiché questa sostanza è capace di influenzare la flora microbiologica intestinale. In campo farmaceutico l'acido lactobionico è utilizzato per le sue proprietà antiossidanti nei confronti delle cellule e trova applicazione per la gestione degli organi destinati ai trapianti. In campo cosmetico questa sostanza è dotata di tantissime proprietà funzionali. L'acido lactobionico è un potente idratante poiché svolge un ruolo fortemente igroscopico e quindi richiama a sé tante molecole di acqua. È dotato di azione antiossidante poiché è capace di chelare i metalli e preservare le cellule dal danno ossidativo mediato dai radicali liberi. È dotato di azione antiaging poiché migliora la compattezza, l'elasticità e la levigatezza cutanea in quanto stimola la sintesi di glicosaminoglicani e mucopolisaccaridi acidi nel derma. L'azione antiaging si esplica inoltre perché è capace di inibire l'attività e la sintesi di alcune metalloproteasi tra cui la metalloproteasi di tipo 9. Questi enzimi sono deputati alla degradazione delle fibre proteiche e quindi bloccandone l'attività o la sintesi si ottiene un ruolo antiaging. L'acido lactobionico è capace di favorire l'esfoliazione delicata degli strati più superficiali della pelle e svolgere anche un ruolo schiarente. L'acido lactobionico è una molecola molto grande, il peso molecolare è circa 358 grammi mole contro per esempio i 76 grammi mole dell'acido glicolico. Queste sono differenze molto significative in quanto l'acido lactobionico impiega molto più tempo per raggiungere gli strati vitali della pelle. Però a differenza degli altri alfa idrossi acidi come per esempio l'acido glicolico, l'acido lactobionico non ha un'azione irritativa ed è compatibile con tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili ed arrossate. Quindi il profilo di sicurezza di questa sostanza è molto alto e può essere utilizzata anche in concentrazioni molto elevate nei prodotti cosmetici. Spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio in descrizione il link ad un mio articolo sull'acido lactobionico. Se avete delle curiosità potete scrivermele nei commenti oppure se volete che io parli di altre sostanze fatemelo sapere. Se volete rimanere aggiornati sui nuovi contenuti del canale vi invito ad iscrivervi e a cliccare sulla campanella. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.